Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, da un'idea di Go Nagai, il suo creatore, il grande robot dell'animazione giapponese. Un robot alto 75 centimetri, completo del centro ricerche fotoatomiche dove sul punto più alto avremo un'altezza poco superiore ai 90 centimetri. Edizione a scette, uscita numero 79 delle 100 previste per il completamento di questa splendida opera d'arte, perché di questo ragazzi ormai ce ne siamo resi conto tutti, ma già dall'inizio, dalla testa, di questo si tratta. Questa è la terza parte della base espositiva, andrò sempre a lavorare sulla colonna laterale, ne abbiamo due, io ho contato nove sezioni. Ok, ve lo dico questo perché è legato al video che ho fatto nell'uscita numero 76, se non sbaglio la 76 o la 77, mi sembra la 76, dove appunto vi spiego il perché è importante sapere la lunghezza, di quanto è composta la torre, di quanti elementi ce la faccio, veramente ve lo giuro, ce la faccio a dirlo se riesco. di quanti elementi è composta la torre, io ne ho contati nove, tenendo presente che sono circa 8 centimetri l'uno di altezza per 9, da 72 centimetri, ecco è per la lunghezza del cavo, perché poi vi rimane tutto sopra, però fate quello che per voi è giusto, non seguite quello che vi dico io, se trovate qualcosa bene, altrimenti seguite sempre le istruzioni. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot, e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente, grazie. uscita numero 80, ovviamente la base espositiva numero 4, e andremo probabilmente, probabilmente due, sto contando gli elementi, 4, 6, 8, no, forse ne manca ancora uno, qua sono 8 alla fine di questo montaggio, sì, probabilmente andremo a metterne un altro sopra, per arrivare a 9. Allora, vi dovevo dire una cosa che, ah ecco, una cosa che ho notato, guardate, forse questo è il primo fascicolo dove non c'è alcune immagini, se non quelle del montaggio, della storia del Mazinga, e non c'è neanche il disegno di Gonagai, è solo così una curiosità, niente di più. Allora, guardate, in questo numero trovo la piattaforma laterale destra, che poi andrò con due viti ad attaccare qui, su quella che ho trovato nell'uscita precedente, la parte posteriore della piattaforma del centro di cerche fotoatomiche, dopo averla unita andrò anche a mettere i due magneti, qui poi ci saranno appoggiati i piedi del Mazinga Z. Bene, inizio quindi a farvi vedere, oltre a questo pezzo, cosa ho trovato, ma è un seguirsi chiaramente di questi pezzi, che sono uguali a quelli che abbiamo montato prima, fatta eccezione, come vi ho appena detto, di questi due che terranno all'interno i magneti sotto la base positiva. Quindi, sempre le quattro griglie in ABS, questi, che sono queste, che sono le quattro pareti verticali, e queste, che sono quelle orizzontali, dove vado subito a identificare il punto di unione con le fresature, vedete al centro, queste, questi due, infatti qua abbiamo due riferimenti, lo 02 che sono le parti di unione, quelle fresate, e queste. Bene, due serie di viti, anzi no, scusatemi, tre serie di viti, queste coniche che servono ovviamente per andare a metterle qui e continuare la nostra torre, poi ci sono queste più piccole, che ce ne sono le 5, dove io ne ho messe già due qui, mi sono creato il filetto, per poter poi mettere, sono dislessico oggi, questi due pezzi qui che terranno il magnete all'interno. Attenzione, se le avvitate, fermatevi 3-4 mm prima, perché qui si considera già lo spessore della plastica, se andate fino in fondo, vi escono da quest'altra parte qui, eh? Attenzione, stessa cosa per queste due, che sono la terza serie di viti, che sono le più grandi, e non vi potete sbagliare, che andremo con queste due viti a unire la prima parte laterale destra sulla parte posteriore della base espositiva. Quindi comincia sempre più a vedersi, come è giusto che sia, la crescita anche di questa, di questo centro di cerche fotoatomiche. Allora, iniziamo. Il LED è da questa parte, quindi cosa ci va sopra senza neanche guardare le istruzioni? Senza neanche guardare le istruzioni ci va il punto di unione, quello che poi unirà l'altra sezione. Quindi questo, con la parte fresata, svasata, come volete voi. Lo metto così, sempre con la parte stretta, questa è la parte stretta e questa è la parte larga, verso l'alto. Mi prendo due viti di queste. Ecco qui. Così. Allora. adesso sostituisco questo cacciavite con quello con la punta più piccola. ecco qui. Poi giro il filo dalla parte nera verso l'alto, parlo del cavetto ovviamente, così si vede ancora meno poi tra le griglie delle due colonne. Metto all'interno qui, lo spingo giù con questa paletta in legno. Ecco. Così. Poi prendo altre due viti, o meglio una alla volta. Me la preparo, metto questo. Questo lo giro al contrario. Questo così. Ho inserito. Sì, posso avvitare. Saranno solo pochi quelli fortunati che potranno esporre. Io per adesso non rientro a in questi. Questa collezione, o meglio, questa costruzione di questo splendido Mazinga con il suo centro di cerche fotoattomiche che prende una camera intera. Ecco qui. Io per adesso non lo posso fare. Adesso vado a mettermi le quattro viti all'interno qui. Vedete che c'è la fresatura nei fori. E poi ci vediamo dopo. Ecco fatto. Adesso prendo l'altro pezzo, lo metto sopra. Quindi così. Avvito anche queste quattro viti. E ci vediamo dopo. Io, ragazzi, vi farei anche vedere tutto. Però poi il video viene davvero lungo e voi cosa fate? mandate avanti veloce. Quindi non serve. Ecco, tutto qui. Ecco qui. Adesso ormai lo sapete, siete esperti. Ci va il punto di unione. Quindi questo pezzo rivolto verso l'alto così. una vite. Questo così. ecco. Io nero verso l'alto. ecco qui. mettiamo queste, le griglie laterali. ok. è vero che si ripete il montaggio, però è bella davvero da montare, ragazzi. e vi garantisco, insomma, non viene difficile, difficile, difficile non vuol dire nulla. Non viene difficile da voi, per voi pensare che io mi godo poco dei montaggi, perché è bellissimo montarlo con calma e godersi i momenti. Io invece devo spiegare tutto, però sono contento di farlo. Però riconosco anche che me lo godo sicuramente meno il montaggio. Allora, mettiamo giù così. Adesso metto la pausa perché vado sempre a mettermi le quattro viti di unione delle due sezioni, queste ultime che ho montate adesso e ci vediamo dopo. Bene, anche questo è stato messo. Adesso metto questo qui. ecco qui. Stringo. Io non so proprio come farò, ma l'avevo già anticipato all'inizio della costruzione. Come farò a riprendere tutto poi col centro di cerchio? Il cubo è 80x80, il mazinga è 75. Se lo metto sopra, alla fine il punto più alto, come vi ho già detto, è più di 90 centimetri. Cosa faccio? Taglio il cubo sopra? Dite voi, compratene un altro. E lo so ragazzi, però piano piano, piano piano si cerca di farcela. Allora, questo è stato fatto. Adesso posso metterlo qua, momentaneamente. prendo ora la parte posteriore della base del centro ricerche e la parte laterale destra. Questa è quella che ho trovato nell'uscita numero 78 e questa in questa qui, la 79. Quindi faccio così. vado a svitarmi queste due viti più grandi ecco qui. poi questa è messa così fatemi vedere un po' questa è così e questa è così quindi va qua una aspettate che ci arrivo eh allora questa grande va messa sopra questa la posizione è corretta ah ecco io sono andato a crearmi il filetto qui ma poco male perché poi questa sarà la parte anteriore è lo stesso qui andranno le stesse identiche viti nessun problema qua ricordatevi se farete questo che sto facendo io adesso non andate fino in fondo ma fermatevi due o tre millimetri prima perché non essendoci lo spessore di questa uscite poi dall'altra parte di attenzione ecco qua dovrebbe essere tutto a posto ma io controllo sempre si posso evitare poi poi controllerò la prossima volta che prenderò nuovamente in mano questo pezzo per andare avanti al montaggio con le ultime viti che ho avvitato eh su tutto beh non su questa colonna ma in questo caso queste più queste qui dei magneti poi prendo i due magneti svito queste due viti da una parte dall'altra che sono le più piccole che abbiamo trovato in questa uscita mettiamole lontano dai magneti altrimenti se le prende subito sono molto potenti i magneti ecco sono qui sono qui uno e lo fisso avete visto la vita un luogo un luogo un luogo non un luogo un luogo un luogo non vi preoccupate se sentite questo rumore del magnete che va là dentro ci vorrebbe così poco a mettere un pezzo di biadesivo qua che facesse da spessore contro questo ma è pressoché inutile questa operazione perché nel momento in cui i piedi del Mazinga andranno a contatto qui con la parte in plastica sopra il magnete il magnete viene subito attirato e non si muove più quindi non vi preoccupate ok ecco qui vedete? molto potenti poi considerate che ci sono poi i magneti anche sotto i piedi del Mazinga quindi ecco questa è la prima parte però stavo guardando una cosa allora io qua cosa vi ho detto che è la parte destra la gerale destra però non capisco se questa è la parte posteriore ragazzi come ci viene detto un attimo devo vedere adesso perché è una mia curiosità 77 78 ok se questa è l'uscita 78 e la parte posteriore questa quindi va da sé che va dietro qua ci sarà scritto il Mazinga ci saranno i fari per capirci a meno che non viene vista da dietro come le auto perché se è vista davanti questa non sarebbe la laterale destra come invece è scritto qui ma è una mia curiosità ma sarebbe la laterale sinistra cioè questa parte quando si costruiscono le macchine si guardano sempre da dietro il posto guida infatti se ha la guida come da noi a sinistra si guarda da dietro e si dice la parte frontale sinistra ok in questo caso non credo che la base espositiva si veda da dietro quindi o hanno sbagliato a scrivere però insomma mi sembrava di aver sbagliato io per quello che sono andato a curiosare ho detto io vi ho detto laterale destra laterale destra ma qui la vedo che è a sinistra non a destra ripeto se invece viene vista da dietro automaticamente va a destra non so come l'hanno interpretata l'importante è che non abbia sbagliato io come invece credevo di aver fatto l'ultima cosa che devo dirvi questa e poi vi saluto quando avete montato man mano che è andato avanti tutto il filo voi tranquillamente potete prendere il cacciavite ed andare a spingere se vi si è spostato dalle due sezioni di plastica vi ricordate quelle che hanno il taglio per poter fare inserire il cavetto e tenerlo fermo questo è andato a spingerlo in giù così lui rimane perché durante il montaggio mentre io lo maneggio va da sé che potrebbe alzarsi come in certi punti è avvenuto il cavetto una volta che fate questo e questo non si tocca più rimarrà lì sempre in posizione ecco vedete io qua adesso ho questo piccolo pezzo di cavo che esce ma ne mancano ancora tre di elementi e se io vado a misurarmi di questi tre elementi ho circa 24 centimetri anzi ho 24 centimetri perché abbiamo anche lo spessore dei punti di unione vi ricordate se vado a misurare il cavetto vediamo quanto ancora esce guardate 26 centimetri circa 27 anzi 27 quindi vuol dire che dovrebbe uscire tanto così fuori che è giusta come misura ed è questa la misura la parte dove è più lungo cioè immaginatevi voi una volta ho montato tutto vi trovate tutto questo cavo sopra cosa ne fate? tirarlo non potete tirarlo però c'è un metodo ragazzi poi se seguite il mio video non vi serve c'è un metodo sia che io abbia interpretato male ma non credo ma potrebbe essere e sia che voi abbiate messo tutta la parte alta sopra che è quello che vi ho appena spiegato prima se vi ricordate quando vi ho detto andate a correggere il filo sotto vi basterà con un cacciavite alzare tutto il filo da queste due parti farlo scorrere nella giusta lunghezza e poi farlo entrare dentro e mandarlo giù quindi non vi preoccupate si riesce a fare tutto bene io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo un abbraccio un saluto a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari da me e Michelangelo è tutto anche se non lo avete visto lui c'è sempre mi amore c'è sempre starà dormendo ecco qua bella alta poi considerate che ci va anche la parte sotto mi sarà ancora più alta bellissima davvero grazie a tutti adesso vado a prepararmi il video della Ferrari 330 P4 se non sbaglio l'uscita numero 34 che ha vinto tra il 4 e il 5 febbraio del 1960 1967 la 24 ore di Daytona con il pilota Lorenzo Bandini italianissimo e Chris Emo tra l'altro in casa Ford davanti alle Ford GT40 MK2 e con una tripletta tutta Ferrari dove la nostra che stiamo facendo che è la numero 23 era l'unica carrozzata Spyder le altre due Ferrari sul podio berlinetta ma questa è quella che è andata sul gradino più alto ciao a tutti ragazzi un abbraccio grazie a tutti